A tutti i telespettatori buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione dell'informazione di TRM H24. Tutto pronto per l'85esima Fiera del Levante che verrà inaugurata questo pomeriggio a Bari. Vi ricordiamo infatti che TRM Network su questo canale trasmetterà a partire dalle ore 17 proprio l'apertura dell'85esima campionaria. Nel frattempo però vediamo il programma in questo servizio. E finalmente tempo di Fiera del Levante a Bari. Questo pomeriggio sarà inaugurata l'85esima edizione, eccezionalmente a ottobre dal 15 al 23, a causa delle elezioni anticipate del 25 settembre scorso. Alle 17.30 nel centro congressi della Fiera ci saranno gli interventi del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del sindaco di Bari, Antonio De Caro, del presidente della nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi, e del presidente dell'ente Fiera, Pasquale Casillo. Quest'anno non sono attese visite di esponenti del governo, data la fase di transizione dalla vecchia alla nuova legislatura. Tuttavia, tra gli invitati, come specificato in una nota dell'organizzazione, ci sono anche i neoeletti parlamentari, le personalità estere delle nazioni presenti a questa edizione, le massime autorità civili, militari e religiose del mezzogiorno. Tra le novità di questa 85esima edizione, il ritorno della Galleria delle Nazioni e il Parco Divertimenti. Le attese restano alte, nonostante il rinvio di circa un mese rispetto al tradizionale appuntamento con la campionaria. Nella nove giorni della rassegna sono previsti infatti 300 espositori e il ritorno degli scambi commerciali in presenza dopo due anni di stop imposti dall'emergenza pandemica. L'augurio resta quello di riempire gli spazi espositivi con la più larga partecipazione possibile di pubblico, il basso costo del biglietto, appena 3 euro, e la promozione dell'ingresso gratuito per chi va in fiera e in bicicletta. Sarà in questo senso un incentivo in più per i visitatori. Andiamo ora a Matera, numeri sempre più stretti per la maggioranza del sindaco Bennardi e quanto ha decretato il banco di prova del Consiglio Comunale della città dal quale è emersa anche la fuoriuscita di Volt dal perimetro originario. Con una maggioranza risicata l'amministrazione comunale di Matera supera anche questo Consiglio Comunale, ma sicuramente c'è nell'Aggiunta Bennardi la consapevolezza della limitatezza sempre più accentuata dei suoi numeri. I sei punti all'ordine del giorno sono stati approvati tutti, ma tranne che per il progetto Magna Grecia, dove i voti a favore sono stati 24 sui 33 totali, tutti gli altri, il regolamento del PAIP, i debiti fuori bilancio, il bilancio consolidato, hanno superato la prova con appena 17 voti a favore su 16, numeri che decretano di fatto anche il passaggio di volta all'opposizione, formazione che ha sostenuto Bennardi nella corsa verso la poltrona da primo cittadino. La città è ferma, dice dall'opposizione Rocco Sassone della lista Matera sempre insieme. Bennardi si dia una mossa oppure lasci per il bene dei cittadini. Soggetti fragili, imprese, lavoratori, sottolinea, sono alla ricerca di una via di fuga in un momento in cui la congiuntura economica e sociale richiederebbe una guida degna di tal nome. Fino a quando c'è una maggioranza, dichiare la primo cittadino Domenico Bennardi, sebbene non nei numeri equivalenti a quelli di partenza, noi andiamo avanti, il progetto politico rimane quello di sempre e ci vorrà del tempo per portarlo avanti. Se altre parti politiche vorranno sostenerlo, non ci saranno ritrosi ad accettarle. Il messaggio è rivolto anche a chi, dice Bennardi, oggi ha ritenuto di fare un passo indietro, pur essendo nato nel perimetro originale di questa maggioranza. Il Consiglio Comunale, ricordiamo, è partito con un omaggio ed un sostegno simbolico alle donne iraniane maltrattate. Ora una notizia di cronaca. Conflitto a fuoco a Cesinali, piccolo centro alle porte di Avellino, tra forze dell'ordine e una banda di rapinatori, uno dei quali è rimasto ucciso. Secondo le prime informazioni, sei persone a bordo di un furgone e due auto erano tenuti sotto controllo da parte degli agenti delle questure di Foggia e Chieti, poiché stavano per compiere una rapina nei confronti di un obiettivo al momento sconosciuto. Intorno alle 20.30 sono stati intercettati sulla strada provinciale del territorio di Cesinali e all'alt degli agenti hanno risposto sparando. Nello scontro a fuoco che ne è seguito, uno dei rapinatori è rimasto ferito mortalmente ed è stato abbandonato in auto da suoi compagni che sono fuggiti. Tre dei presunti rapinatori si sono poi arresi e consegnati agli agenti della squadra mobile di Avellino, mentre altri due sono ancora in fuga. Secondo quanto si è appreso, i componenti della banda sarebbero tutti pugliesi. L'ultima ora pagina, ci occupiamo del maltempo che ha colpito nuovamente la Puglia e la Basilicata. In Puglia, particolarmente colpiti l'Alta Murgia e il Basso Salento, ma i danni più significativi si sono registrati a Matera, nel Potentino, con particolare riferimento alla zona di Castro Cucco. La strada statale 18 risulta ancora chiusa, causa un grande pino caduto al centro della carreggiata in zona marina. Per liberare la strada statale 585 sono intervenuti i Bob e i Vigili del Fuoco, disagi significativi per i cittadini anche per l'assenza di elettricità e interruzione dell'erogazione del gas. Cambiamo ancora argomento. La Puglia, il TTG di Rimini, ha presentato i dati relativi alla stagione estiva 2022 e boom di presenze di stranieri, superando i numeri registrati nel 2019, anno record per il turismo in regione. Con oltre 2 milioni di arrivi tra giugno e agosto 2022, la Puglia si conferma regina del turismo, in un anno particolare per il settore. Dal conflitto in Ucraina ai dati Covid fino al caro energia, sono stati comunque circa 10 milioni le presenze registrate in regione in estate, con numeri da record, superando così i numeri raggiunti nel 2019. Il traguardo è stato condiviso a Rimini in occasione del TTG, dove la Puglia si mostra una regione in crescita in un anno considerato di transizione. La Puglia quest'anno ha saputo dimostrare una capacità di reagire a un contesto che era difficilissimo, caratterizzato dal Covid nei primi mesi dell'anno, ma anche fra giugno e luglio, caratterizzato da una crisi internazionale importante. La grande novità dei dati di oggi è che sostanzialmente gli italiani tengono, quindi sono arrivati gli stessi italiani del 2019, pur avendo un portafoglio più ristretto, perché la situazione l'ha fotografata benissimo FederConsumatori un po' di mesi fa ormai, e quindi ce l'aspettavamo, ma il risultato straordinario è davvero quello degli stranieri. Confermato il numero di presenze di turisti italiani in Puglia, ma la novità assoluta è rappresentata dal dato dei turisti stranieri. Si registra infatti un più 79%. La regione quindi diventa metambita da nord a sud, facendo registrare una crescita in tutte le province. Bari in coronata regina per il turismo culturale, Vieste ha fatto registrare invece ancora una volta un boom di presenze. Dei dati bellissimi, siamo soddisfatti, ovviamente parlo a nome di Vieste e di tutta l'amministrazione, credo che questo sia semplicemente il coronamento di un lavoro di squadra, che ormai dura da sei anni, quindi dal nostro primo mandato ci siamo messi tutta la squadra del sindaco Nobiletti a lavorare per migliorare e fare in modo che Vieste potesse arrivare a questi risultati ai quali è giunta oggi. E al TTG di Rimini c'era anche la Basilicata protagonista con le sue aree interne, tanti gli operatori stranieri che hanno visitato lo stand. Il bilancio raccontato ai nostri microfoni da Antonio Di Nicoletti, direttore dell'APT Basilicata. Una ripartenza non facile che ha messo alla prova imprese, infrastrutture e territori. E' questo il quadro emerso nel corso della cerimonia inaugurare del TTG di Rimini, un momento di confronto sulle nuove tendenze del turismo e dei futuri progetti, ma è comunque una ripartenza, una ripartenza definita rock. E non poteva mancare la Basilicata con uno stand di 150 metri quadrati, maxi schermo con video e fotografie che richiamano tutta la straordinaria offerta della Basilicata, da Matera alle coste Tirrenica e Adriatica, alle montagne, ai cinque parchi lucani, fino ad arrivare ai piccoli borghi. Per la prima volta dopo la fase pandemica, tanti gli operatori lucani che hanno voluto partecipare a questo evento, tanto che oltre ai 20 posti disponibili, l'APT ha dovuto predisporre una lista di attesa nella eventualità di ulteriori posti liberi. Il bilancio del direttore di APT per questa esposizione fieristica è più che positivo. E' bello vedere la fiera così popolata, dopo due anni di timori, tentennamenti. Oggi le destinazioni sono tutte presenti al massimo della loro rappresentatività. Noi abbiamo uno stand gioioso, pieno di fiori, di colori, di luci, e restituisce l'immagine di una Basilicata, che è la Basilicata da vivere liberamente. Basilicata, il nostro slogan è liberi di muoversi. E' proprio la nostra area piena di operatori, fra l'altro. L'altro dato che ci rende molto ottimisti la presenza attiva degli operatori regionali, e questo stand interpreta molto bene il nostro sentimento di regione accogliente, aperta, felice e del benessere. In Puglia è stata presentata la tredicesima edizione del Mese del Benessere Psicologico. Vediamo il servizio. Fino al 31 ottobre in tutta la Puglia si terranno incontri, eventi e iniziative incentrate sul tema della prevenzione della salute e del benessere psicologico. La campagna di sensibilizzazione è giunta alla sua tredicesima edizione e quest'anno assume una valenza ancora più significativa. I grandi temi della pandemia e del conflitto in Ucraina hanno avuto ricadute soprattutto sui più giovani. Lo ha sottolineato il presidente dell'Ordine degli Psicologi di Puglia, Vincenzo Gesualdo. In Puglia al 10 ottobre sono pervenute circa 22.000 richieste di aiuto psicologico per quanto attiene al bonus psicologico. Chiaramente stiamo parlando di fasce meno abbienti della popolazione e quindi di fasce che mai avrebbero potuto accedere a questo servizio. sono prevalentemente giovani, il 60%, hanno un'età da 18 a 35 anni, a testimoniare il fatto che la popolazione più colpita sono i giovani da un lato e le donne che sono circa il 70%. Gli psicologi hanno avuto un ruolo centrale nella loro funzione e vitale per il nostro territorio, dichiarato l'assessore al welfare della regione Puglia, Rosa Barone, presente alla cerimonia di presentazione della campagna. Da sempre ci siamo incontrati con gli ordini regionali ma anche con le associazioni stesse perché riteniamo che la loro funzione sia vitale per i nostri territori, per i nostri concittadini. Infatti al tempo andiamo anche a proporre delle leggi che sono poi diventate realtà come lo psicologo nella scuola, così come stiamo accompagnando dei percorsi tali da poter in qualche modo rafforzare anche tutti quegli uffici e quegli aspetti in cui lo psicologo ha comunque un ruolo fondamentale. Ancora a Bari si sono riuniti i massimi esperti di osteoporosi e malattie dello scheletro in occasione del 22esimo congresso della SIOMS. A Bari alvia i lavori dei massimi esperti internazionali in ambito di malattie metaboliche dello scheletro in occasione del 22esimo congresso nazionale della SIOMS, la più importante società scientifica che in Italia si occupa dell'osteoporosi e dei disordini del ricambio minerale. La Puglia è stata scelta per il suo ruolo centrale nella ricerca. Bari e la Puglia in generale sia in passato ma anche nel presente e nel futuro rappresenta veramente una delle aree più importanti dal punto di vista scientifico di ricerca e quindi era giusto riconoscere a questo tipo di sforzo di attività fatta negli anni e anche nel futuro il ruolo che le compete. L'identificazione del paziente fratturato o a rischio di frattura, nuovi farmaci, ruolo della vitamina D, questi alcuni dei temi che saranno affrontati durante i lavori. Questo congresso vuole essere sostanzialmente un incontro due anni dopo il covid, quindi il primo congresso in presenza e l'idea è quella di unire sotto lo stesso tetto persone che si occupano sostanzialmente della stessa cosa. L'altro aspetto importante è legato ai giovani perché questo congresso per la prima volta ha un simposio giovani totalmente gestito dagli under 40, è un congresso in cui i giovani hanno un loro spazio anche di tipo sociale. E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo ancora per aver scelto la nostra informazione.